buongiorno buonasera marco pt e mi ritrovo costretto a fare un video di precisazioni un video di rettifica un video di spiegazioni in merito all'ennesimo attacco che mi viene portato da un sedicente più o meno allenatore non si capisce bene se faccia di mestiere il tecnico o altro che vi faccio vedere le immagini perché sono anche stanco di fare corollari vi faccio vedere cosa insinua questo signore a mio riguardo poi vi do giustamente la mia risposta è un periodo abbastanza di fermento per i dissing finalmente tozzi ha dato una risposta a biasci in merito alla nutrizione ha deciso che non sto né con tozzi né con biasci ma si vede che il periodo è questo qua ci sarà qualche luna storta che condiziona gli umori delle persone non il mio ma a quanto pare quello degli altri sì e mi trovo di nuovo risucchiato nell'ennesimo dissensione marco pt ricordo che vide questo video perché alcuni disse tu sei forte ma guarda lui che pesa di meno devi mettere il bip quando dici marco pt dicevo marco pt perché non vuole essere marco pt marco pt hai visto questo video di arricneri che faccia di fa molto più di te e lui rispose vabbè ma lui pesa meno non è perché pesa meno più forte è normale se alto un metro è un nano più leve più corte quindi lui insomma vabbè non ha mai accettato marco l'idea che qualcuno superasse medie perché se a marco di togliere a militari non gli rimane niente è come se io gli togliessi il bulgare a marco perché magari l'ho fatto meglio ma l'ho già fatto ma non diciamo allora dominguzzo andiamo con ordine vediamo un po cosa sei riuscito a raccattare dal fondo del tuo barile melmoso dunque 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 io conoscerei soltanto il bulgaro no io non è che conosco il bulgaro io ho decrittato e codificato tutta la filosofia di allenamento di Ivan Nikolov Abagiev e l'ho trasposta al mondo dell'allenamento amatoriale e agonista amatoriale e agonista quindi non è che io conosco il bulgaro per conoscere il bulgaro basta leggersi il libro di Adogruz o basta leggersi gli articoli di John Broz oppure trovare le conferenze dello stesso Abagiev in giro per youtube purché uno conosca la lingua bulgara non è il mio caso quindi non è soltanto un discorso di conoscenza è un discorso anche di decodifica poi mi rendo conto che nel tuo caso le parole con più di quattro sillabe sono ostiche quindi casomai interrompe il video rivedito apri uno zingarelli e cerca di capirci qualcosa e anche riguarda te questo magari anche forse il tuo pubblico che secondo la mia opinione uno dei meno scolarizzati del web ma è la mia opinione personale allora dunque io non conosco soltanto il bulgaro io so programmare con tutti i tipi di programmazione due anni fa mi sono allenato con Yuri Belkin mi sono fatto cocciare da Yuri Belkin quindi conosco tutti i mesocicli macrocicli microcicli di accumulo intensificazione scarico questo è innegabile io posso fornire tranquillamente i recapiti contatti di Yuri Belkin che ti potrà confermare la stessa cosa ma forse l'hai già fatto visto che il numero suo ce l'hai quindi ancora una volta detto una solenne stronzata mi rendo conto della tua vita sia una collana di perle le perle sono le cazzate che inventi ma io conosco tutte le programmazioni tra i miei clienti figurano powerlifter crossfitter gente che si tiene in forma col fitness generico artisti marziali pugili atleti di mma casalinghe professionisti commercialisti imprenditori impiegati artigiani operai io mi definisco un professionista versatile io ritengo che semplicemente la programmazione in ambito forza più efficace sia quella che io ho approfondito poi tu puoi dire quello che vuoi ma ancora una volta la realtà ti smentisce clamorosamente ti ricordo che tu hai allenato un mio ragazzo facendogli perdere non so quanti chilogrammi in panche era partito con 145 poi è sceso a 100 kg di massimale tu puoi attaccarti quello che vuoi però i numeri sono quelli io di sicuro non l'ho pagato per depistare l'opinione pubblica anche perché è un ragazzo tranquillissimo che vuole soltanto campare tranquillo poi c'è il caso di andrea un ragazzo che ti è che ti è stato a cui ho consigliato di provare la programmazione che era curioso è sceso da 190 di panca 175 poi tornando al mio metodo il mio metodo ha vinto un oro in cpl in panca piana con 190 kg confermo in gara quest'anno 23 giugno del vaffanculo 23 gennaio 2022 penso che ci sia ancora la diretta su youtube poi tu sei il maestro nell'accampare scuse sei il maestro nel frignare nell'attaccarti a qualunque cosa la tua programmazione caro dominchio è inferiore sono più di quattro silve inferiore quattro sillabe ok c'era fai capire inferiore quattro sì inferiore mi rendo conto poi che a sillabari non sei un granché non voglio rimangare episodi un po tenere in cui io facevo fare i compiti a tua figlia due anni fa però comunque i fatti sono questi poi un'altra cosa tu avresti scusami tu avresti programmato meglio di me in bulgaro io capisco che la tua vita ormai sia un film trash che tu sia praticamente credibile quanto bombolo nei film di thomas millian e commissario monnezza ma non penso che questa stronzata non si credano neanche ma penso neanche i bambini dell'asilo tu che programmi in bulgaro ma sarebbe come dire che un un orango uscito da una gabbia di uno zoo si mette ad assemblare una ferrari f40 e poi mi rivolgo anche i tuoi clienti ma ragazzi ma lui vi manda ancora quelle schede compresse in cui in una pagina di excel avete tutto il mensile di programmazione le mandava anche a me quando l'avevo spremuto e masticato e sputato me le mandava anche a me queste queste paginazze di cellette colorate fantoziane in cui c'era il gioco della clementoni rosso arancio giallo tutta la programmazione di un mese in un foglio non so se le manda ancora spero che sia un po aggiornato ma all'epoca era così nell'anno fa era così l'anno scorso era così spero che abbia un po cambiato registro se non mi dispiace per voi anzi no non me ne frega un cazzo comunque tu che programmi in bulgaro non si può ascoltare tu hai fatto i tuoi migliori record della tua carriera per quello che vale con la mia programmazione poi tu potrei negare potrei attaccarti sui vetri da queste ventose che si staccano e mi ricordo che tu hai fatto bei numeri relazionate quello che tu sei con la mia programmazione poi il tuo allenatore ti ha ripescato per la collottola e ti ha riportato all'ovile e da lì è iniziato di nuovo il tuo declino i fatti sono questi i fatti sono questi conosco persone in ambito federale che mi hanno confermato anche questa cosa qua tu stesso l'hai ammessa in conversazioni che loro hanno udito ma fin qua niente di male uno può anche ammettere di essere mediocre ma tu invece di guardate lo specchio sputarti in faccia e ammettere quello che sei tedi ancora in ballo me poi io mi rendo conto che tu abbia una specie di sindrome di stoccolma lo so che tu senza di me saresti penso ancora in qualche cucina a impastare focaccia o mettere il pacchino sulle pizze che è un lavoro dignitosissimo ma per carità io rispetto i professionisti della ristorazione ma non è per dire che saresti degradato è per dire che faresti altro magari potevi diventare un petroliere potevi diventare un politico potevi diventare la faccia che hai la faccia di bronzo che hai per dire bronzo anche come politico staresti dato anche credibile ma qua non vorrei che insorgessero i pizzaioli ristoratori è un lavoro alla pari del mio fare le pizze era per dire che farebbe altro dominguzzo quindi purtroppo oggi piano sempre schivare il perbenismo strisciante che rende impossibile esprimersi in un linguaggio normale però vabbè si tira avanti ogni epoca le sue battaglie qua siamo come i sgoccioli allora che altro c'è da dire military press eric neri cos'è che mi tocca leggere qua se military press eric neri anzitutto non ho mai seguito il signor neri mi rivolgo che adesso a costui egregio signor neri io non sono al corrente delle sue imprese sportive non ricordi aver dato un parere assimilabile a quello che riporta dominchio su di lei se lei ha sollevato 110 di military press buon per lei mi ricordo che mi hanno sottoposto un suo video in cui c'erano questi 110 di military press fatti con cintura gomitiere forse dei polsini non non mi ricordo non me ne voglia comunque io non ho nessuna intenzione di leggiarla non l'ho mai dileggiata non l'ho mai né offesa né insultata e la pregherei di non farsi trascinare in un vortice di idiozie dal suo non so se amico dominchio quindi poi anche per dare prova della mia buona fede io ho fatto 114 di military press quindi penso di non dover essere invidioso dei 110 fatti da lei con tutto rispetto per lei che comunque mi dicono essere un ottimo atleta un calisthenics un calisthenico un ginnasta poi io non sono iscritto al suo canale quindi non mi occupo non so di cosa lei si occupi insomma ecco chiudo parentesi la saluto e questo è quanto dunque tolto il military press cosa mi rimane ma io vengo da strappo slancio sono un ex paesista quindi tolte military press mi rimane strappo slancio ho fatto dieci anni di arti marziali con muay thai e brasilian jiu jitsu qua possiamo aprire tutta una parentesi in cui riusciresti tritato tanto per cambiare sono piuttosto bravo nei movimenti di trazioni zavorrate o una dignitosa panca piana a un dignitoso stacco da terra faccio front squat e non back squat quindi nel comparto accosciate pigeramente uno come te non è che mi impressiona tu cos'è che hai mai queste spalline a bottiglia i fianchi larghi le cosciotte da volatili sempre un piccione tutto petto e coscia sempre sempre un volatile e sgraziato privo di cresta sarai forte come power sarai stato forte come power lifter ma il mondo dei pesi non si canalizza nel power lifting e poi tu vuoi far credere al mondo che senza il power lifting non si si può allenare mi ricordo una tua storica frase e chi se non meglio di un power lifter neanche la grammatica conosci potrebbe dire chi se non un power lifter o chi meglio di un power lifter però correggere te in italiano è veramente come sparare con un bazooka sulla croce rossa veramente la cosa ignobile e non intendo farla noi ragazzi vi rivolgo a voi forse guarderete questo video il mondo dei pesi non si riconduce il power lifting c'è tutto un universo da conoscere di prevenzione di fisioterapia di esercizi di correzione di bilanciamento lo sviluppo completo armonico del fisico non c'è soltanto panca scuota e stacco se no i culturisti per esempio farebbero quello se no tutta la preparazione sportiva di calcio basket mma si ridurrebbe a tre esercizi cosa che non è così vabbè ma queste cose sono talmente ovvie che mi sembra anche di fare un vaniloquio parlandone che altro dominguzzo c'è poco da aggiungere inutile che metti lì sempre in ballo io lo so che senza di me tu saresti ma neanche è finito non sarete mai neanche cominciato mi rendo conto che sia rimasto male ti ho masticato e sputato ma la programmazione era più buchi di un colapasta io da te ho preso neanche tanto la tecnica ho preso dei trucchi da agonista quale tu sei stato o sei ancora dei trucchi che fanno parte della tecnica per grattare qualche chilo trucchi che neanche eri capaci di spiegare l'italiano dicevi rilassa il dorso con la z il dorso intendevi sicuramente rilassa il trapezio ho dovuto spiegarti io come si parla perché ancora una volta siamo nel campo secondo me dell'analfabetismo funzionale tant'è che oggi mi dicono che anche tu si rilassa il trapezio non rilassa il dorso perché il dorso è una parte piuttosto bassa della muscolatura va dal collo ai glutei praticamente quindi non si sa se è lungissimus dorsi latissimus dorsi eccetera eccetera ma tu che cazzo te ne frega tu distribuisce le schedine incassi i soldi sei a posto così quindi cosa ho preso sì quel trucchetto lì che tu hai imparato mi dicono da brunetti un trucco che si chiama appunto rilassamento del trapezio che tu hai imparato da brunetti che mi pare abbia decodificato nel suo libro punti di contatto se ricordo bene potrei sbagliarmi poi la tua panca piana con le gambine che strizzano la panca è buona se usi le scarpe col tacco però si tende a staccare un po il sedere nel mio caso più sicuro spancare a gambe larghe ma non nulla contro la tua versione io non la uso andrea saver non l'ha usata per vincere l'oro in vpl però qua in questo caso non ho niente da recriminare ma se si va a parlare con te di roba tecnica tu ti attacchi a mille appigli tu sei quello che nel 2022 penso faccia ancora lo stacco presa mista lo stacco tipo mazza da baseball è dal 2015 che hanno sdoganato la presa un'uncinata come miglior variante tu non sei che mi risulti una ragazza non hai le manine piccole le mani normali però ti fa male il pollice quando stacchi un'uncinata mi dicevi che sentivi la scossa brutta sul pollice e se ti fa male il pollice si vede che sei soffice è una soglia del dolore piuttosto bassa si vanno raccontare che meglio la presa mista però perché è ridicola come cosa basta che dire il tuo canale di trash tv sembri ormai lanciato in questo hai capito che ormai le visual le fai dando spettacolo tu in questo sei come già definito una prostituta mediatica una baldrac mediatica termine affettuoso non vuole essere ingiurioso hai capito dove battere il chiodo lo stai facendo e basta tutto lì questa è la mia risposta ovviamente smentisco tutte le tue fermazioni la mia programmazione è ad ampio spettro e copra tutte le casistiche non si limita assolutamente al bulgaro anche perché io ho costruito anche stupende ragazze con le mie tecnologie che tu magari giudicherei obsolete quindi so anche lavorare sul fisico femminile tanto quanto quello maschile anche perché non potrei applicare il metodo bulgaro a una ragazza che fa magari la influencer oppure non potrei applicare il metodo bulgaro a una casalinga di 60 anni o a un imprenditore che soffre magari di diabete quindi capisci che ancora una volta dici delle colossali idiozie sventisco tutto la mia programmazione ad ampio spettro il mio repertorio di esercizi è ad ampio spettro io non sono forte soltanto nel lento avanti se vuoi quando vuoi facciamo strappo slancio se poi si parla di arti marziali io mi alleno per un mesetto rispolverò un po il repertorio poi vediamo come va a finire tramite due mani e tu due mani io tu sei quello che diceva che nel muay thai non ci sono le ginocchiate domingo mingo do ce l'ho qua tu dicevi che nel muay thai non ci sono le ginocchiate è tutto salvato sulle mie storie su instagram con la tua bella faccina pronunci queste idiozie c'è anche il tuo amico gianni gianni mazzi della milon dire che nel muay thai non ci sono le ginocchiate come dire che nel judo non ci sono le proiezioni o come dire che nel pugilato non ci sono i ganci ma queste cose qua ma non è che serva essere un maestro di muay thai ma penso che anche un turista anche un turista delle arti marziali le sappia poi la bellissima carrellata dei tuoi movimenti aggraziati in cui sembri un barbone ubriaco che prende a pugno un feedback ma francamente non capisco neanche dove trovi questo coraggio dicono diceva fabio rizzo che una volta che si abbandonano i grossi pesi della vita si vuole leggeri quando uno rinuncia a dignità vergogna vola leggero vola leggero non ha più pesi che lo tengono che lo tengono ancorato la realtà io penso che tu viva io penso che tu viva in una bolla spazio temporale a parte penso che tu sia ormai entrato in un matrix personale dal quale non uscirai più penso che tu abbia visto quattro spicci ti sia completamente rincoglionito ti è partita la nave sui social hai capito che con dando un po di spettacolo raccatti qualche cappa di follower in più ti senti una celebrità senti una star e penso che questo ti abbia completamente scardinato dal mondo reale poi io mi fermo qui perché non è il mio compito aiutarti penso che sia giusto che tu compia il tuo doloroso cammino e che tu sconti fino alla fine la tua condizione detto questo non altro da aggiungere ringrazio l'utente gigione che mi ha fatto presente l'ennesima l'ennesima castroneria imbroccata dal nostro zio fester dei poverissimi io ringrazio gigione gigione ti ho dato del troll domando scusa purtroppo capitano i troll domando scusa quindi non ero al corregno non seguo neanche domingo non lo seguo non vedo i suoi video li trovo ributtanti li trovo raccapriccianti la segnalazione comunque era veritiera avevi ragione tu gigione e poi chiudo il video marco pt grazie per l'attenzione e se volete informazioni tecniche di un certo livello lasciate perdere certi canali venite sul mio padre on così vedrete che settimana dopo settimana mese dopo mese cominciamo a collezionare ad archiviare un po di roba seria roba non destinata a un pubblico generalista ma contenuti molti più tecnici precisi kit di antinfortunistica programmazione in dettaglio tutorial di esecuzione tecniche adesso sono un po all'inizio il canale di patron è ancora un po agli inizi ma col tempo andrò a inanellare inanellare contenuti ulteriori e penso che sarà un lungo processo penso che su patrion spero su patrion di divertirmi parecchio e di portare contenuti di alto livello cosa che comunque finora sto facendo marco pt grazie dell'attenzione io sono esausto dopo questa tirata ma chi assi io non taglio video riesco avere un eloquio fluente anche senza il montaggio video basta così grazie a tutti dell'attenzione marco pt out